Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMW News, grande spazio al Napoli nel corso della nostra trasmissione, Napoli eliminato dalla Champions, ci sarà spazio naturalmente nel corso di questa puntata anche per trattare altri temi a partita dalla Lazio che deve fare i conti con le dimissioni di Sarri. Ma andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Salvatore Biazzo, voce storica della Rai. Ciao Salvatore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Ripartiamo dal Napoli eliminato dalla Champions, una eliminazione che nasce nei primi 20 minuti di gioco, una sconfitta che arriva dopo quell'1-2 tremendo da parte del Barcellona perché poi comunque il Napoli si è giocata quasi alla pari. Ma è stato un K.O. tecnico in due riprese perché fare in un quarto d'ora due gol come quelli, peraltro con una difesa assolutamente ferma, poi è difficile recuperare giochi contro il Barcellona, non è che giochi contro la squadretta di Serie B. Non c'è dubbio e poi sono mancati al Napoli proprio in questa partita Osimène e Quaraschelia. Quaraschelia ha provato a fare qualcosa in più, Osimène è stato praticamente annullato dagli avversari. Ma Caravaschelia sicuramente ha fatto delle cose, Osimène no. Osimène non ha fatto proprio niente, Osimène io lo trovo molto demotivato anche in campionato perché non è che in campionato sta giocando partite eccezionali come quelle della passata stagione. In effetti sta giocando così, un po' quasi in surplus, per cui non è sicuramente l'Osimène della passata stagione. Credo che il suo pensiero sia oramai già la prossima squadra. Il rammarico può anche essere quello di aver affrontato un Barcellona tutto sommato forte sicuramente, però non irresistibile. Ieri tra l'altro c'erano anche delle assenze pesanti per questa squadra. Gioca bene, ha dei giovani fortissimi, però comunque se è attaccato fa emergere qualche pecca a livello difensivo questa squadra. Ma questo sicuramente hai ragione. In effetti, poi rispetto alla formazione dell'andata, non è che c'erano le cinque o sei assenze di cui i media hanno parlato tantissimo. In effetti c'erano un paio di assenze. Peraltro colmate molto bene, uno dei due ha segnato anche gol, Fermin. Ma a parte questo, c'ha sicuramente dei giovani, ha schierato addirittura un 2007. Quindi immagina insomma che lavoro c'è dietro la formazione del Barca, cioè che crescita che c'è, che ha cura per i giovani, come vengono seguiti. Cosa che invece in Italia non accade quasi in nessun club. Ma detto questo, in effetti c'è stato un momento dopo il gol di testa, che c'è dopo il gol di Lobotka sul retropassaggio di Politano, che si aveva l'impressione che ce la potessero fare. E secondo me ce la potevano fare. Ma quei due gol sono stati un pugno nello stomaco. Facendo una riflessione generale sulla stagione del Napoli, con questa eliminazione, è chiaro che adesso per il Napoli non resta che il campionato. Un campionato che però può riservare al momento poco. Comunque sembra difficile che la squadra di Calzona possa raggiungere un posto utile per la Champions. Servirebbe una marcia inarrestabile da qui alla fine del campionato. È davvero difficile poter, ripensando alla squadra dell'anno scorso che ha conquistato lo scudetto, poter arrivare a dire che le cose non hanno funzionato per niente. Dover arrivare a dire questo. Infatti la stagione, tu non lo dici ma lo pensi, la stagione fallimentare, questo è il termine che va usato per il Napoli. Una stagione fallimentare dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista strategico, dal punto di vista tecnico. In effetti i cambi degli allenatori ne sono la prova più evidente. Le spuriate di De Laurentiis sono la controprova. Ma a parte tutto questo, il problema di fondo è che in realtà il Napoli non riesce a ritrovare se stesso. È fuori praticamente da tutto. È fuori dal campionato del mondo del 25 perché occorreva almeno vincere con il Barcellona e fare un altro risultato positivo in Champions. È fuori dalla lotta per lo scudetto. È fuori dalla lotta per la Coppa Italia. È fuori dalla lotta per la Champions, a meno che non succede quello che tutti sperano e cioè che in base al nuovo regolamento che vale solo per quest'anno perché poi si cambia ancora, non ci sia un quinto posto che in questo caso verrebbe assegnato all'Italia. All'Italia perché in effetti è seconda rispetto alla Germania e viene prima della Spagna. Cioè praticamente l'Italia mi pare che ha 15.000 punti, 17.000 punti nel ranking UEFA, ce li ha la Germania, gli altri vengono molto lontano ad almeno 1.000-2.000 punti in meno. E allora a questo punto scatta il premio perché come sai ci sono due squadre in più che possono partecipare e queste vanno ai campionati che hanno il migliore ranking negli ultimi tre o quattro anni e quello italiano ha il migliore ranking perché si calcolano soprattutto le qualificazioni in Champions, Conference League, UEFA, tutto questo concorre a fare quel coefficiente di cui ho parlato poco fa che rende il Napoli come dire ma anche altre squadre. Io dico il Napoli ma ci sono altre squadre che possono aspirare a questa situazione. Penso alla Fiorentina, penso alla Roma, il Bologna è già diverso perché è una posizione pressoché blindata come del resto l'Atalanta, però ci sono parecchi competitor. Assolutamente, però tornando al Napoli ti chiedo se a tuo parere Calzona ha ancora delle chance durante il campionato per giocarsi la permanenza sulla panchina del Napoli. Io penso di sì, penso di sì perché è un allenatore che è piaciuto perché rispetto a Mazzarri ha dato una svolta anche se Mazzarri ha comunque l'alibi di non aver mai utilizzato praticamente Osimen, di aver avuto in ritardo Anguissa, però Calzona nemmeno sta usufruendo, sta godendo, sta utilizzando il migliore Osimen che abbiamo visto nella passata stagione e che ha fatto innamorare anche chi non è tifoso del Napoli. E allora detto questo è chiaro che Calzona sta facendo quello che può, tenuto conto degli errori che si fanno e si ripetono, c'è un Di Lorenzo che non è certamente da 8, da 9 come nella passata stagione, Politano una domenica se una domenica no, cioè voglio dire ci sono parecchi problemi. Caravaschiale per esempio in casa ha giocato una partita straordinaria, un uomo che nella passata stagione è stato il principio di 48 azioni da gol, ha fatto 14 assist, ha fatto un numero incredibilmente alto di gol bellissimi, è chiaro che è un uomo intorno al quale costruire il Napoli del futuro. Tra l'altro parlando della partita di ieri non abbiamo ricordato come per il Napoli ci potesse essere tranquillamente un calcio di rigore per il fallo su Osimen, evidentemente fuori dai confini nazionali sono rigori che si fa più fatica a darli. Guarda io seguo moltissimo, a parte che ho un paio di amici arbitri internazionali che mi tengono una specie di doposcuola ogni tanto, quindi qualche regola comincio ad assimilarla, ma anche l'atteggiamento. Lì ci sono due errori, il primo è che il rigore a mio giudizio è pressoché netto, ma non parlo per amor di causa o come defensor pacis, no, parlo proprio come uno che ha visto il calcio per tanti anni e dico che quel pestone peraltro con un mezzo sgambetto è rigore a tutti gli effetti. Ma anche se ci fosse stato il dubbio, e questo è ancora più grave, non è intervenuto l'arbitro, non è intervenuto il quarto uomo, non è intervenuto il VAR che rispetto a un errore del genere poteva intervenire. Allora il problema è che per quanto riguarda il VAR, anche se giochiamo all'interno di campionati, perché quello italiano fa parte dell'UEFA, del regolamento UEFA, quindi vale per la Spagna, per l'Inghilterra, per la Germania, per l'Italia, allora le regole del VAR valgono secondo i paesi, valgono secondo i tornei? Il VAR doveva intervenire, doveva intervenire e richiamare l'arbitro e dire a Macchelli guarda che probabilmente c'è. Poi c'è anche la possibilità che si faccia per così dire, la posizione vale la posizione del campo, cioè il giudizio dell'arbitro, che si fa sempre. Allora a quel punto avrebbe sbagliato solo l'arbitro, ma avrebbe lasciato il dubbio nella platea. Invece quello di non aver visto, nemmeno la ripetizione, di non aver visto al VAR quelle immagini, dà la sensazione di un torto clamoroso che ovviamente nessuno intende accettare. Senti, invece cambiando argomento, tu conosci molto bene anche Sarri, ti chiedo se sei rimasto sorpreso dalle dimissioni che sono arrivate ieri, ha lasciato l'incarico, la Lazio che adesso sarà diretta da Martuscello. Ma è il suo secondo, quindi diciamo si sentiranno almeno per telefono. Ma a parte questo, secondo me, un allenatore che molla in questa maniera non è corretto, io non credo che sia una cosa corretta. Non dico che è un perdente, come dice De Laurentiis, no, io dico semplicemente che un allenatore che ha un contratto, non è che, voglio dire, può aspettare sempre che lo caccino. Evidentemente Lodito voleva continuare con Sarri capendo benissimo quali erano i problemi della Lazio, perché la Lazio non è che può fare affidamento sull'immortale, sull'immobile per tutta la vita, come non poteva farlo la Roma su Totti o su De Rossi. Arriva un momento in cui devi cambiare. Ora non è detto che Lodito non avesse in animo di cambiare, tu molli di tutto nel bel mezzo della corsa, quando teoricamente, dico teoricamente, c'è ancora qualche probabilità, beh, mi sembra un po' come una cosa come sbatti la porta e te ne vai. Questo avviene, come ha fatto un po' anche Spalletti, in due casi, o perché sbatti la porta convinto che ce n'è un'altra aperta e allora si può anche capire, ma non è corretto. Però probabilmente può anche aver fatto un altro ragionamento e c'è che il problema fosse diventato lui e quindi i giocatori evidentemente non riuscivano a rendere neanche più perché non rispondevano più alle sue indicazioni, alle sue sollecitazioni. Ma è probabile, guarda il calcio è un mondo strano, a parte che è una società atipica già come formata, come è, come condotta e come gestita, ma anche a livello di Spogliatore. Spogliatore sembra essere il quinto potere sempre della squadra, per cui molte volte anche noi giornalisti diciamo, beh, evidentemente hanno perso la partita perché volevano secare l'allenatore. Ma come non è corretto lasciare un compito che gli viene assegnato e che gli viene pagato, retribuito in maniera molto ma molto seria e altrettanto è per i calciatori che devono fare il loro lavoro e lasciare la società che faccia le scelte che ritiene di fare. E riprendendo il discorso che facevi poco fa, che futuro vedi adesso per Sarri che è un vincente, reduce da questa stagione disastrosa con la Lazio, ma che ha comunque grande esperienza, direi anche inizia a dover pensare in un picco alla fine della carriera, ma insomma può anche fare delle riflessioni in questo senso, visto che ha 65 anni. Guarda, non so che risponderti. Ti potrei rispondere con una frase che disse Maradona quando seppe che Sarri era arrivato a Napoli. Dice perché hanno preso mio zio? Punto di domanda. Allora la stessa cosa potrebbe dirsi di Sarri, però poiché io ho superato l'età che ha Sarri e mi ritengo ancora in gioco, credo che Sarri possa ancora fare delle cose e fare anche delle cose egregie. Che possa ritornare al Napoli, se poi era questa la domanda delle domande che mi volevi fare, io non ci credo, ma io personalmente non credo mai ai cavalli di ritorno e così come non ho creduto a un cavallo di ritorno come Mazzarri, non credo nemmeno a Sarri. A parte, apro parentesi, a parte, apro parentesi e lo ribadisco, che Sarri a Napoli non ha vinto niente, nemmeno la Coppa Italia, nemmeno la Coppa del Nonno. Tre anni in cui c'erano solamente due avversari, anzi uno soltanto, la Juventus, non c'erano altre squadre, le milanesi erano in crisi, le romane erano in crisi, non c'erano l'esploit della Fiorentina, non c'erano l'esploit dell'Atalanta e del Bologna, c'era solamente l'anti-Juve. L'anti-Juve era il Napoli, è vero che fece 91 punti, ma con quella squadra almeno in una su tre, ma forse in due su tre, poteva vincere lo scudetto. Perse contro l'Empoli, perse contro la Sampdoria, si fumò un mare di punti nel secondo anno, ad ottobre, tant'è vero che parlavamo di rivoluzione di ottobre, insomma su 23-24 punti, mi pare riuscì a prenderne siano 9. Questo è, quindi io non credo che possa ritornare, anche se so per certo che a Napoli è ancora molto amato. Tanti tifosi della Fiorentina vorrebbero Sarri come allenatore viola, sia perché è comunque esponente di un gioco piacevole, un gioco spregiudicato, ma anche perché non ha mai fatto mistero delle sue simpatie per la Fiorentina. Ma che lui non abbia fatto mistero, non l'ha fatto nemmeno per altre squadre, se voglio essere sincero, lo fa per la Fiorentina per ovvi motivi anche di regionalismo, però a parte questo io credo che la Fiorentina abbia un grande allenatore, francamente come ce l'ha anche il Bologna. Non è un caso che sia italiano che Diego Motta erano nel mirino di De Laurentiis. Però detto questo, se la Fiorentina vuole cambiare italiano, vuole fare un cambio da italiano al Napoli, ammesso che non venga riconfermato Calzona perché ha problemi con la sua nazionale, ha firmato una carta con la quale diceva vai a Napoli se però tu vieni confermato qui. resti qui. Quindi, insomma, italiano a Napoli, già giusto per cambiare, fare una girandola non sarebbe male, per quanto io penso che lui abbia intenzione di andare ad allenare all'estero. Poi guarda, c'è sempre questa cosa che però sta finendo, questa rabbia saudita che però, insomma, sai, il principe saudita ha fatto i calcoli che tutti questi giochini di calciatori che arrivano gli è costato un miliardo secco. Ora è vero che loro puntano molto sull'immagine. Questo perché dal 2050 c'è la deregulation per quanto riguarda gli idrocarburi e loro devono porsi il problema secolare. I cinesi si pongono problemi millenari. Loro secolari, noi quando il petrolio comincia a scarseggiare o a non venderlo più, noi che cosa facciamo? E allora hanno puntato sull'immagine, sul turismo. Hanno due gran premi. Hanno rubato a Torino la next generation di tennis. Vogliono dei tornei del grande slam e sarà difficile che si aggiunga un quinto torneo di grande slam, dove peraltro speriamo che Sinner faccia cose incredibili. Stanotte ha vinto ancora e sicuramente vincerà anche ai quarti. Poi vedremo in semifinale e in finale che cosa succede. Attenzione anche a Nardi, ma fatta questa parentesi di tennis, la rabbia ha due gran premi di automobilismo. Ha un gran premio di golf. Addirittura con il progetto Vision 2030. Vogliono costruire degli impianti di neve, cioè dell'innevamento artificiale all'interno di strutture particolari. Lo faranno o non lo faranno? Resta il fatto che hanno preso i mondiali. Vogliono gli europei. Vogliono le olimpiadi. Cioè loro stanno puntando moltissimo avendo i soldi sullo sport. O sarà un caso che Infantino abita da quelle parti? Salvatore, grazie anche per la tua partecipazione e soprattutto per la tua preparazione a 360 gradi. Ma io ringrazio voi e mi scuso con tutti per questo collegamento, ma sono in viaggio, sto ritornando, quindi mi sono dovuto fermare per fare il collegamento per non tradire l'affetto che voi sempre mi dimostrate. Grazie mille davvero Salvatore. Buona giornata, a presto. Con questa chiacchierata con Salvatore Piazzo siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata. Grazie mille.